Terza giornata di incontri qui all'ATP di Ortisei, oggi ne sono in programma 6 per il singolare e 2 per i doppi, appena terminato il singolare fra Federico Gaio e Team Puts, il tedesco ha vinto 6-3, 7-6 al tie-break, Gaio però ha avuto la chance di portarsi a casa al tie-break, ma la sprecata con una palla corta in rete, sentiamo Team Puts. le passato con un'autocento, ma poi sono rimane fonda o ho fatto fatto qualcosa di stupido, e poi la ricetta si può passare oltre. L'impostante dopo l'è fatto, che è un'autocento a due sostanze, ma ho dato un'autocento che è un'autocento che si messo la volley al 7-6. quando c'è il set point. E poi, in fine, è stato un punto. Il secondo set è venuto al tiebreaker e questo è successo. Ma io sono felice, ho avuto due sette. Buon servizio e buon passaggio per tutto il gioco. Sì, sì. Io ero felice. Il servizio è bene, è quello che è stato molto difficile. Con la base linea ho sentito migliore di quello che ho pensato. Perché è difficile giocare senza altitudine, e ho arrivato molto tardi. Mi sono felice con la forma che ho gioco e, lo più importante, il servizio funziona. E per quanto riguarda il servizio funziona, nessuno può fare qui. abbastanza bene. Lui ha seguito molto bene, è stato molto difficile rispondere. Infatti, non ho riuscito ad avere nessuna palla break. Peccato per il secondo, dove ho avuto un set point, ci sono andato a letto, ho sbagliato una volè, non difficilissima. Però comunque sia, una buona partita. Stavo venendo appunto da partita a livello futures, un po' più più basso, diciamo. Volevo giocare più partite possibili, dato che era qualche mese che ero un po' in astinenza di partite. Quindi, sono contento, comunque sia, per l'ottima prestazione. Sappiamo dove migliorare, però siamo molto contenti per quello che già stiamo facendo. Esce a sorpresa il tedesco Andrea Speck, testa di serie numero 5, sconfitto dallo spagnolo Enrique Lopez Perez per 7-6-6-4. Non gioca benissimo il tedesco, che ha un recupero nella parte centrale del secondo set, ma non è sufficiente con lo spagnolo. Sentiamo il vincitore. Siamo qui con Enrique Lopez Perez, il vinto contro Andrea Speck. Un buon gioco oggi. Sì, è stato un buon gioco per me. Non ho aspettato di venire così tanto. Cioè, ho provato con tutto il mio potere, ma lo conosco, è stato un buon gioco, quindi sono molto felice. Non poteva venire, Tennis. In la seconda parte del match, il torno è meglio di prima. Sì, ha iniziato il primo set e ha fatto un buon gioco in un buon gioco, con il servo, e dopo me ero nervioso, e credo che ero fortunato. E dopo aver giocato meglio, io credo che ero fortunato. che ero fortunato. Sì, ero nervioso, e ho provato, in quel punto precedente, nel 2015, ho provato, e mi ha fatto un buon gioco. E ero molto nervioso, ho pensato, ho dovuto giocare sulla linea, se non, magari farà un altro, quindi, sì, buon gioco. bene. Altro match è terminato, quello fra Dustin Brown e l'italiano Matteo Berrettini. Vince Dustin Brown senza nemmeno sudarsela. Berrettini fa quello che può, serve bene, risponde bene, ma ovviamente Dustin Brown in questo momento è di un altro pianeta. Sentiamo il tedesco. Sì, è sempre difficile, soprattutto qui, quando i ragazzi servono bene, è sempre un tuffo gioco, e sicuramente voglio provare in qualche modo, e in uno o due gioco non ha avuto più di first serve, quindi mi ha dato un po' di chance di tornare un po' di più. È un po' di più di first serve, quindi quando ti servei è difficile, e sicuramente non voglio andare a un gioco, perché, soprattutto sui servizi, in altitudine, c'è anche un po' di luck, e, sì, sono contento che ho avuto, ma non è così facile, come sembrava. Se l'altro gioco ha avuto problemi di fare la scuola a questa altitudine, ma lo sai. Beh, sì, ho avuto gioco un po' di tempo qui, i ultimi anni, e questo anno ho già avuto un doppio, quindi è un po' più facile per me, ho già avuto un match e ho diventato un po' di più. La pratica è una cosa, ma gioco un match è sempre un po' differente, quindi è buono che abbia avuto un doppio l'esterno. È appena terminato il match tra il georgiano Basil Ashfili e l'americano Krajczyk, ha vinto quest'ultimo in tre set, 7-6, 3-6, 6-3. Il primo set è caratterizzato da un tie-break equilibrato, nel secondo c'è stato subito un break da parte del georgiano che si è appropriato un po' del match per il secondo set, mentre nel terzo set che è partito in equilibrio il primo break ha rimesso in carreggiata il match per l'americano. un incontro molto dispendioso per Krajczyk con il georgiano che rispondeva benissimo incrociato e che lo ha messo in difficoltà. Austin, ha vinto un gioco molto bello ma molto caro con il gioco e si può riuscire a farlo. Ma oggi, nel terzo, potrei riuscire un pochino e riuscire. Non posso garantire, è sicuro. Nicola ha una buona ritorna e hai problemi? Si, gioca molto bene. Il giocato il giocato e giocato un giocato quindi è difficile. Per me devo essere pronti per la ritorna, perché è venuto per la ritorna. Questo è molto difficile, ma è buona preparazione per la resta del giocato. Ho vedo un giocato più grande, e spero che mi aiuta aiutare. Ok, grazie.